Allora, rigenerare è il concetto, la parola che vogliamo esplorare questa sera, è una parola bellissima ed è anche qualcosa di necessario, è necessario rigenerare molti dei luoghi del nostro vivere moderno, non soltanto le città ma anche tante zone di prossimità, zone che sono state costruite male, terreni che sono abbandonati, comunità che sono un po' disfatte dalla bruttezza, dalla povertà, dalla mancanza di occasioni. Rigenerare e rigenerazione urbana è un concetto così importante che nel PNRR c'è un stanziamento molto importante per attivare politiche di rigenerazione urbana che poi è anche una rigenerazione sociale, è qualcosa che deve tendere innanzitutto a legare nuovamente le persone in uno stato di benessere fisico ma anche culturale. Allora, come si pratica la rigenerazione urbana? Come si ricrea un luogo? Come lo si rende migliore per i suoi abitanti? Lo vogliamo chiedere ancora una volta a Elena Granata, bentornata a Geo, professoressa di urbanistica al Politecnico di Milano, vicepresidente della Scuola di Economia Civile, bentornata. Allora, che cosa si intende esattamente per rigenerazione urbana? Rigenerare e rigenerazione ha tantissimi significati. Certamente tra questi c'è il recupero, la ristrutturazione dei manufatti fisici, ma non si ferma lì. Rigenerare ha a che fare col nostro futuro, con l'immaginario, con attribuire nuovi usi e nuove funzioni a qualcosa che appartiene al passato. Ecco che quindi rigenerare è il verbo che ha a che fare con le economie che rinascono, con i giovani che possono restare nei territori ad abitare perché c'è un futuro ad abitare. Ecco, quindi il filo comune è appunto rinnovarsi, guarire anche. Guarire, ferire, aggiustare, rigenerare vuol dire reinventare, vuol dire dare una seconda vita, una seconda chance a un luogo che magari è stato abbandonato o dismesso o ha perso la sua funzione sociale. Allora, tu ovviamente sei un'nessa sul territorio con tantissime storie, tantissime realtà che ci puoi portare ad esempio. Ce n'è una che viene dalla Sicilia, un esempio molto bello di una coppia, anzi una famiglia e una cittadina siciliana. Che cosa hanno fatto? Allora, pensiamo sempre che la rigenerazione la facciano gli esperti, i tecnici, gli urbanisti. Ecco qua i nostri rigeneratori. Qui siamo a Favara, una cittadina siciliana e questa è la famiglia Bartoli con i figli ancora piccoli, adesso le figlie sono cresciute. Decidono di tornare a Favara, la loro città d'origine e investono, investono nella trasformazione dei luoghi. Guardate come sono colorati, vivi, ridanno un'anima a un pezzo di città che l'aveva perso. Investono i loro capitali, la loro intelligenza, la loro capacità di immaginazione e ecco il paese torna vivo, torna a fare impresa, torna ad attirare talenti sul territorio e mette insieme, guardate qui, le vecchie generazioni con la curiosità dei giovani che vengono da tutto il mondo per master, corsi di formazione che si svolgono proprio in questa città reinventata, reimmaginata dal basso. Ed è qualcosa che ha a che fare col futuro e l'economia. Non è efimera, non è qualcosa solo di artistico creativo, ha a che fare con la possibilità dello sviluppo dei luoghi. Quindi abbiamo visto che ci vuole immaginazione e ci vuole ascolto del bisogno, dei bisogni delle persone. Bisogna stare dentro i contesti, ecco la storia della famiglia Bartali è una storia di capacità di reinventare luogo standoci dentro. Ecco che si porta la natura nei luoghi abbandonati, ecco che si porta la bellezza, una parola molto importante, dove quel luogo l'aveva persa e attraverso la bellezza, la natura, la socievolezza di questi luoghi che tornano domestici, ecco che si promuove uno sviluppo che è anche economico. Questo è molto bello, è una cosa un po' abbandonata, diroccata, far fiorire della vegetazione, illuminare con una luce. E vediamo come il tema ecologico, la sostenibilità ambientale si fonde con la bellezza, si fonde con la capacità di fare impresa. E può toccare i luoghi più impensati, scuole, chiese, anche le carceri. Sì, ecco questa è un'altra storia molto bella, Armando Punzo, siamo a Volterra, 25 anni fa si fa internare in questo carcere come direttore artistico e immagina, sogna di trasformare questo carcere, che è un carcere tradizionale di lunga pena, in un luogo dove si fa teatro. Ma non in maniera occasionale come politica sociale, no, dove il teatro si integra con il carcere e offre bellezza, arte, creatività, immaginazione. E oggi questo è il primo teatro stabile al mondo integrato dentro un carcere. E voi capite che quando gli spettatori entrano nel carcere non sanno più se sono liberi, prigionieri, se sono in un contesto immaginifico, sono dentro il carcere. Guardiamo che livello di allestimenti. E guardate queste immagini bellissime, evocative, dove l'arte è la bellezza, la giustizia, la rieducazione, ma anche il riscatto delle vite. Lo abbiamo visto un po' prima con l'esempio di Favara. La rigenerazione consente anche alle persone di non dover abbandonare un luogo, di non doverlo lasciare. Questo è avvenuto anche in Piemonte ed è avvenuto per opera di ragazzi molto giovani. Sì, un problema italiano è quello dell'abbandono soprattutto della provincia, delle aree interne, cosiddette aree interne. E nel Biellese un gruppo di sei giovani ha deciso di reinvestire nel bosco. Ed ecco che ha scoperto un'area abbandonata, l'ha bonificata, l'ha trasformata e l'ha resa un glamping. Cioè un camping di lusso adatto al gioco, al divertimento, al tempo libero. Quindi è un parco giochi per adulti e qui si fa economia, qui si fa turismo, qui si fa recupero della natura e ovviamente impresa civile che consente a questi ragazzi di restare nel loro territorio. E queste sono bolle che consentono di fare un'esperienza di prossimità con la natura, che è accessibile a tutti, che è facile, che è vicino alla città e che consente anche alle generazioni di giovani di assaporare che cos'è una notte in un bosco. Ma che idea geniale questa, bellissima. Anche qui si fonde l'esperienza, l'economia, la bellezza e il riscatto della natura. Vedete che sono tutti esempi che tengono insieme tutte queste dimensioni. Allora se noi ci guardiamo intorno vediamo che sarebbero infinite le possibilità per prendersi cura di un luogo e farlo rinascere. Insomma basta posare gli occhi in giro e uno vede di tutto. Ognuno di noi potrebbe prendere un'iniziativa per migliorare lo spazio che ci circonda. Da che cosa partire? Da aprire gli occhi, da guardare il mondo intorno a noi, da immaginare che con i nostri vicini di casa noi possiamo mettere insieme un'iniziativa locale, puntuale, ma che ha il sapore dell'universalità. Come hanno fatto a Milano con questo progetto bellissimo, ha un nome stupendo, il miglio delle farfalle. È un miglio dove gli abitanti hanno seminato piante officinali che attirano insetti farfalle, riportano su questa strada di traffico urbano, natura, insetti, biodiversità, ma al contempo consente alla comunità di essere attiva, viva, di ricreare legami sociali, mentre ci si occupa della natura in città. Ecco che allora la città riscopre se stessa. La città è quello che accade tra le case, tra le persone. Non è chiusa negli edifici, nelle case, ma come nel miglio delle farfalle, è la possibilità di prendersi cura della natura e quindi di noi stessi, della nostra salute. Ecco, quanto è stato stanziato nel PNRR per la rigenerazione urbana? Allora, i fondi per la rigenerazione sono tantissimi. C'è un punto che dobbiamo portare evidenza. Non è la quantità di soldi, ma è come li spenderemo. È la capacità di spostare l'attenzione dalla rigenerazione in senso più banale, recupero dei manufatti, intervento sull'edilizia, a capire che la rigenerazione è qualcosa che ha a che fare con la vita delle persone, con le relazioni materiali e quindi non tutto richiede di essere pagato. Ci sono cose che non si comprano, ci sono cose che non costano e queste sono quelle che rendono il processo di rigenerazione più impattante. Ecco che allora, benissimo che ci siano soldi stanziati in tutti i comuni, nelle realtà che sapranno attivarsi e quindi inventare dei progetti di riqualificazione e di rigenerazione, ma ci sarà la possibilità di rigenerare il nostro paese al di là del PNRR. Nelle pieghe della creatività e dell'immaginazione dei cittadini. Questi fondi devono essere una spinta non solo ad aggiustare fisicamente le cose, ma a mettere in moto dei processi, dei meccanismi. Di meccanismi di condivisione tra le persone. Ecco perché la politica, le amministrazioni da sole non possono farcela, nemmeno la capacità di spesa più efficiente riesce a intervenire nei luoghi se non si attiva quella capacità immaginifica di relazione e di coesione sociale che possono mettere soltanto gli attori locali. Ecco perché la mia parola che uso da un po' di tempo è placemaker. Questa parola che dice la reinvenzione dei luoghi, la capacità delle persone, degli attori sul territorio di reinventare i luoghi partendo da quello che c'è. E quindi c'è una dimensione di investimento economico, ma c'è una dimensione di investimento simbolico e politico che però non può prescindere dalle risorse umane. Soprattutto bisogna imparare a riaggregarsi, a comunicare tra di noi, ad ascoltare i bisogni l'uno dell'altro. E questo lo possiamo fare con queste scamotage, occuparci dei luoghi, uscire di casa. La pandemia ci ha insegnato a guardare nel nostro quartiere, in quella città dei 15 minuti che è lì fuori casa, perché questo ci fa bene, fa bene alle nostre relazioni umane, rende sensato abitare le città, i borghi, la provincia. Allora dà senso all'essere abitanti di un mondo che è qualcosa che richiede investimento, partecipazione e coinvolgimento. Grazie, grazie Elena Granata, professoressa di urbanistica al Politecnico di Milano, vicepresidente della Scuola di Economia Civile. È stato sempre, come sempre, un piacere ascoltarti.